Lo sapevi che la ceramica è il materiale ideale per ogni tipo di applicazione in esterno? È perfetta per terrazzi, camminamenti e verande, anche in continuità estetica con gli interni. Nelle versioni ad alto spessore, la ceramica resiste ai carichi più elevati e può essere posata senza collanti, su erba, ghiaglia e sabbia. La ceramica offre infinite soluzioni per piscine, solarium e spa e può essere utilizzata sui bordi e all'interno della vasca. La ceramica resiste agli agenti atmosferici e ai raggi UV ed è quindi perfetta per il rivestimento di facciate esterne, anche con paretti ventilate che ottimizzano il comfort termico degli edifici. Grazie alla sua buona conducibilità del calore, la ceramica è ideale per il riscaldamento a pavimento di ogni tipo di ambiente. I pavimenti sopraelevati in ceramica consentono un utilizzo pratico e sicuro in uffici, negozi ed edifici storici, sia all'interno che all'esterno. La ceramica può rivestire ogni superficie con soluzioni su misura. In cucina è ideale per piani lavoro e contenitori. In bagno, per tope lavabili coordinati con i pavimenti e le pareti. La ceramica è una finitura di prestigio per tavoli, tavolini, banchi reception, porte, pareti di arredo e tante altre applicazioni da design innovativo e contemporaneo. La ceramica, una scelta sicura.